Stai bene Andrea e tu? Eccomi qua, eccomi qua, eccomi qua Scusatemi per il ritardo bello sottofondo di FIFA Eh sì, stavo giocando a FIFA, comunque scusatemi il ritardo per la live Però... Stavo giocando un po' a FIFA, poi sono stato un po' fuori Sono arrivato da poco E devo parlare con i miei genitori al telefono, quindi scusatemi Adesso ci sono e iniziamo come tutti i giorni con la live Vedremo cosa succederà oggi in live Mura ha detto Aurora che se vai da lei ti apprezzo, se non è lei non viene da te Eh raga, vabbè, se non viene... Va bene, che non venga Cioè... Ho i Daurux Vado Posso parlare con te, certo che potete parlare con me Fissa se il nostro è sì... Ok Allora 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 Non ti posso mandare la richiesta, perché? Eh, non c'ho... Allora, lei dice che... Ti lascia... Cosa? Cosa? Aspetta, 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 come se non l'ho capito? Cos'è che hai detto? Allora, perché si è arrabbiato? No, chissà... Senza trucco rega, il trucco mai più Serio, cioè, se no mi ci metto troppo a struccare, infatti è... Ehm... È un po' una rottura a truccarsi Mura, mettete... Boh E aggiunge, adesso rispondo un po' di domandini Aspettate, eh Sì, perché non vai, Dele Rega, eh... È il fatto di dare la soddisfazione Ti stacco Perché non vai mai da... Ok Vai da Aurora e da sola Dai, adesso Volete che vado da lei? Dai, ora, vai da Aurora Riveliamo insieme Vai da Aurora e se no ti lascia Ma cos'è sta storia? Che mi lascia, se vado da lei? Cioè, se non vado? Allora Ma lei è ancora in diretta? Potenza per questo È in diretta? Ok Non pensavo fosse in diretta Ciao, ciao, ciao Allora Rispondo alle domandine Perché non ti fai Un tatuaggio Non lo so, rega Sono un bot indeciso Perché c'ho paura che poi Una volta che lo faccio Mi tocca Cioè Se cambi idea è un casino Quindi non lo so Vediamo un po' Marca preferita Bella domanda Non lo so In questo momento In questo momento non lo so Chiedetene una cosa Chiedete Chiedetele Tra quanto stacca da lei Vuole che fai questo passo Volete che lo faccio? Ha staccato? No, non può Non può aver staccato, rega Non ha staccato Non ha staccato la lei Ditemi la verità Non ha staccato Non è vero, rega Non ha staccato Sta aspettando te No Non ha staccato È impossibile Non ha staccato Ci scommetto Tutto Però se mi dite una bugia Io Non vi credo più Rega Mi sta dicendo Una bugia Non ha staccato Io ci scommetto Sta staccando Ma non l'ha staccato Che dole il mio fanpage Si è staccato Ha staccato? Ha staccato? Ha staccato? Non ha staccato bro Allora Non è vero che sta staccato Non è vero che sta staccato Allora Allora Facciamo così Provo Allora Io adesso Provo a passarle di fianco Cosa ci fate nella mia stanza? RG Cosa ci fai nella mia stanza con Giada? No 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 Vedere un film E perché proprio voi? Ma se stanno in giro E Rodolico Qua nella mia stanza? Tutti insieme Tutti un mura Io me ne vado allora No Pimbo Pimbo io ti voglio qua Noi dobbiamo vedere il film Ma io me ne vorrei lui Io me ne vado Stai da solo No dai A me vado anch'io Guardate Eh prima cosa ti devi fare al mio posto No non lo so Io me ne vado Volevo dire di togli il se al mio posto Io spero solo Ok finito Hai visto la cosa? Ma qua Io non ho parole Ergi Dai guardalo con noi Cosa? Vieni Posso Mi sto per inquadrare Perché? Questo Perché si No 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 Vieni a guardare un film Cosa è che volete da me? Vieni a guardare un film Fammi scegliere Vieni a guardare un film Lascia fare a me Filma di un scienziato Dov'è? Dov'è? Vieni a guardare un film Non te lo dico Sì Proprio adesso Dov'è? Noi ho parole Vieni a guardare un film Forrest Gump Inghia Sei romantico Quella Si beh Di altre parolacce Di un altro 20 Scusate Ti sassi Guarda me la pitta Guarda me la pitta Guarda me la pitta Ergie Io me ne vado Stato io dopo sto via Ergie Io me ne vado Ergie Io me ne vado No dai proprio sto qua Io prendo una mia Red Bull e vado Le pagine della nostra vita Tu hai troppo desiderare Cos'è che vuoi? Cos'è che vuoi? Cos'è che vuoi? Ma dillo Cosa c'è? Dai dillo Ma dove vai? Ma hai guardato raga? Andato anche lui Che tua mica Ti arrabbiato Eh ci credo Guarda avete Siete sul nostro letto Noi vogliamo guardare i film Per gli affari No io non posso adesso Va bene ciao Non mi parliamo più Sicura? Io sai che mi dici sicura Giura su quello che hai di più caro Non lo fare Non lo fare Cosa? Non lo fare Cosa? Non giurare Dai dai giura su quello che hai di più caro No Dai dai Giura? Dai vai Non mi vuole Non mi vuole la pitta No 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 Tu hai detto non mi parlare Giura su quello che hai di più caro No basta Un bacio qui a sotto No batte pure Giura Giura su Giura su quello che hai di più caro Che me ne devo andare Sì cioè vai No Bro Ergi Sì è bello No raga va schifo Amo amo Bro non so si sta chiedendo Povero Mura avete ragione raga Chiama Giulia Di che ci sono tre ragazzi nella tua stanza E io chiamo Tu chiamo Aurora Io non posso chiamare Aurora perché è già qua dentro E come faccio? A me chiama Giulia Perché vuoi chiamare Giulia? Non posso? No Quindi tu mi vuoi qua? Sì No No Giura su quello che hai di più caro Giura su quello che hai di più caro Che me ne voglio Non vuoi il tuo ragazzo Sei un po' indecisa Perché non voglio essere sott'ora E sinceramente io se una è indecisa non so cosa rispondere Sei indecisa Guarda dopo questa Guarda Mura con le persone indecise Sì fra con le persone indecise Oh tu stai muto eh Come stai muto? Non fai niente la cosa Ah quindi Ti giuro non frega niente e lo dico No Cosa Oh 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 Bro ti sto minacciando Non frega niente Ah ricatti pure? Sì Ricatti Oh Bro Bro ti sta ricattando Perché Ergie allora No no Sì Ergie cosa Ah ti fai ricattare così Cioè Ergie quel quadro Cioè Quindi tu hai ricattato il mio Il mio miglior amico Ma sono amico con cosa? Con cosa ti hai ricattato? Eh Vuoi te lo diciamo Però ha paura Dimmi ora l'oracchio prima No tesoro mio Ah quindi stai dicendo che Ergie ha combinato No tesoro mio eh Bro ti stai facendo ricattare? No io non mi faccio ricattare nessuno Ah no? Ah ah Eh beh Nooo Quindi Nooo Ah ho capito Nooo Non si parla Quindi cosa sta succedendo? Nooo No 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 Non sto capendo Ah no No Bisnes No Giorno sto spezzando che non ho paura di parlare No 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 Ergie vai di fianco Non me ne spiega niente No 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 Aia Aia Ergie Aurora Si sta alzerando Eh guarda la faccia di Ergie Vero Ergie No amo Oh mamma aspetta Oh Cosa cos'era quello? No 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 Ergie cos'hai combinato? Ergie No Ergie No Guarda la gamba Perché la tua gamba è agitata? Anche la terza però si sta alzando Cosa succede? Dai questo no eh Ah quindi Va bene Ah Ergie Cosa? Come ti permetti tu? Oh Va bene scherzare però Vacci piano eh Muffa Cosa? Muff Oh Oh Va bene Ergie Allora vogliamo proprio dirlo No Ergie 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 Cosa deve dire? Non penso nulla Si è muffita? Non hai favore Ergie 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 Oh 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 Sta partendo un coro Sta partendo un coro Il mio passato 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 A me sembra più che presente Ah Non era appunto Gennaro col verificato su TikTok da tipo quasi un anno Ah E perché sei così informata? E infatti Perché sei così informata di Ergie? Raga lo conosco da due anni e mezzo Si dai Fai schifo Dai Ergie No dai Ergie Questo no Ergie Dai Ergie Ergie Guarda come scappa dalla verità Oddio ma che è sto tor di merda Ma che è sto tor di merda Ergie Ergie che è sto tor di merda Dai Ergie No Raga no no Appena Hai preso Hai appena sganciato una bomba atomica Ergie Non so se ti conviene stare lì Ma quando è che ci giuriamo alla play? Ah 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 FIFA hai ragione FIFA No no FIFA Ah no FIFA 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 Ok ok Ci siamo tutti Ci siamo tutti Bella 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 No Spengi la live Ergie Difendimi Non lo spegno Ok Parliamo Non è Ergie Ahia 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 si è alzato Si è alzato Cosa dovrebbe fare? Ahia ah 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 Cosa dovrebbe fare Ergie? Ergie? Non riesco Parlo Ergie Se non riesco a parlare parlo io No 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 Oh Oh Ergie ci sta Parliamo di domani Andiamo a fare dei video In quel posto Chi di su Ah O nell'altro ieri Ancora O nell'altro ieri O nell'altro ieri Ancora O nell'altro ieri 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 Posso fare l'imitazione? Oh ok Di cosa Di cosa Di cosa Di cosa L'imitazione No Stiamo scherzando tutti Ergie Sei d'accordo? Non devo chiuderla live Vero? Esatto Esatto Aurora Che grande Ahia Guardate la faccia di Aurora E guardate la faccia di Ergie Sono felice Sei felice Ah Ho detto che è felice Anche io sono felice Fra Oggi anch'io sono Ma che pozzo di piedi? Ergie Questo è Mura È la mezza di Mura Fai vedere Cos'hai sul corpo C'è la prima Fai vedere Le macchie Che c'hai sul corpo Questo è tutto Spurgizzo Ma che spurgizzo Perché non mi amo Spurgizzo Raga Your name È bello Your name Vediamolo Vediamo No 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 Vero ,ây demande Contessa Però Your name no Fra Your name no Your name sì Quando ha un suo film Che2 Ti fai ricattare Alessandro Scarpa Potresti gentilmente dire Allora a me» Però a me «Amo» Non mi chiama solo Ergie Capito Ma che dopo Domani c'ho scuola — Vini No Da Ad dove dormire Da poco C'è Ai Do mind Aia 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 Sta Apart Sta litigando Col from ma tu scorieggi, rutti, quanti buchi c'hai? e poi cos'altro? in diretta se la ruta era un'altra ha scritto ciao vabbè rega vi lascio guardar vi lascio guardar c'è anche lui apriamo quelli patrissi si si e ci sono fai questo, ma lo chissi tutti raga che fai allora rega che sticola qua sono impegnati è meglio film ora voglia di romantici qui si quello che non mi da oh questo è pesante pure aia io direi di rimediare ora devi sentare un'erro aspetta non ho capito ripeti ancora questo che sembra carino raga ma quello che non lo caga guarda quello di casa dai 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 ripeti ancora ciao amo sangue è bello principe per natale è bellissimo giura sullo spritz veneto cosa? no giura su quello che hai di giugare ah ma quello sotto è bello lo ho garantito giura su quello che hai di... questo non ispira amo eh non ti deve ispirare ti devo ispirare solo io ooooooh amo Rebecca, Rebecca è bellissima ah però ci sono due tipe che mi hanno schifo ooooooh uno per chi? per elgi? una per me e una per te ooooooh non mi interessa tu lo devi anche dire oh 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 aia aia due contro uno due contro uno ma due in chi? no si stava scherzando stava scherzando ahahah ma quindi è gelosa ahahah ahahah quindi sei gelosa eh vai via ma doveva andar via? e guarda l'altra che sei andata perché è gelosa giura giura sullo spritz giura su quello che hai di più caro che devo andar via ma la vuoi smettere? dai bro allora domani andiamo da stare via dai allora domani andiamo guarda gli occhi da fare guarda gli occhi da fare vai vai andate andate andiamo? eh bro chiamai dai bro dai possiamo guardare? sei deccazzata? si si se se ne va via giura su quello che hai di più basta tanto so che ti sposti tanto so che ti sposti non l'avevo fatto ieri cosa? pure? eh patrizio 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 sta litigando vieni qua vediamo se vediamo quello che sono mettere amiche sopra di lei sembrava oggi pura mentre cercava di scegliere il video per tiktok raga basta parlare dei cazzi vostri raga infatti stia parlando di cose serie ma io sto parlando delle nostre amiche in comune eh lei mi ha... lei sai cosa ha fatto? lei sai cosa ha fatto? chi giuro? io mi stavo avvicinando ancora brava cioè mi fai andare dritto? brava amore vai giù vai giù vai giù eh no no guarda questo qua questo qua guarda e poi guardiamo pure quello qua un tipo? va bene? si si eh amore vi piace? chi li ha a fare i tuoi? o no? oi guardiamo la mimica Giada io sono qua in live a parlare con i miei amici vi piace? si però vorrei poterlo dai possiamo vedere il film vieni anche qua no io non ho parole io me le vado giuro sono sprizzendo ma se stanno mettendo la dussa perchè c'è la ricerca non grava donna perchè non mi vuoi perchè devi farla dura dove? va bene giù l'ho provato l'ultima volta l'ho provato l'ultima volta l'ho provato l'ultima volta l'ultima volta sono il grosegno ci siamo un po' tal... un po' talveri figa un po' talveri figa un po' talveri io me ne vado ciao guardate sto qua in mezzo a tre cioè non lo so eh? uno due tre ah pure lei eh partiamo dal fatto di questa camera mia e io in camera mia faccio quello che voglio loro si sono infiltrate quindi qua io non c'entro nulla cos'è che... ci sono perchè c'è lui eh no io me ne sto andando a dir la verità ma lei c'è perchè ci sono io di la verità Aurora non nascondere le cose in focia bravo e tu ci sai perchè? perchè c'è Aurora e se quindi se non ci fosse Aurora non ci sarebbe e tu già per che cazzo ti parlo? per me hai tutto un giro... lusco allora se... guarda Mura che non capisci un cazzo ma ne hai chiesto capendo e te non capisci basta che una persona si sposta Murai guarda le calzine di Ergi basta che una persona si sposta e si spostano tutti vabbè grazie raga bella Trotsky ciao Murai quindi mi vuoi? dove ne me lo compro? cosa ti compri? l'iPhone 12 Pro Max tocchi pure l'iPhone degli altri? tra l'altro della... è mio! cosa? come ti sei permesso? è tu? mi sa fosse di Stefano c'è lui una cosa è una foto di noi c'ha... c'ha come... nello sfondo un'altra persona chi è questo? ma sei tu ma... aspetta... no... sei tu? com'è Stefano? amore? 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 ehi... è zitto niente... qualche gelare cosa hai detto? cosa? ma non hai mai nero nella vita mi sono baciato con brisa cosa? 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 ahia... qua hai inizialmente... no... c'è la diretta di muro c'è la diretta di muro lei a me raga dai adesso lo chiudo lei a me vedete 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 al massimo io a lei io lo do e niente raga adesso... facciamo così vedete sono qua dobbiamo aspettare Ergi dobbiamo aspettare Ergi cioè dovete ok mi vado più io raga eeeh... sto di fatto che... cos'è quello? le unghie eeeh... 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 vabbè raga facciamo così dai vabbè raga facciamo così dai vabbè io son troppo eeeh... ma ora sembra mica il jazz eeeh... il jazz come va il jazz un bacino mi do il bacino mi do il bacino dai raga comunque niente adesso... dato che... la piccoletta oggi... mi ha mancato un botto in serio mi ha mancato un botto mi ha mancato un botto eeeh... 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 ciao... ci becchiamo... domani sera con un'altra live cerco di organizzare qualcosa... un gioco bello eeeh... un obbligo verità eeeh... 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 andiamo a vedere il film perché infatti io eeeh... 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 ciao... io amo... la mia bimba buon notte dai eeeh... io non ho parole dai chiusi dai io vi voglio baciarlo lei si sforza e si dai bacino ancora dai ancora? eeeh... eeeh... non lo so dai dai smettila eeeh... 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 ciao... ciao... oggi è stato breve ciao... ma intenso eeeh... 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 eeeh...